Abbiamo tre condensatori da 30 picofarad, 2 nanofarad e 0,8 nanofarad collegati ad una tensione di 230 volt e ci viene chiesto di calcolare in che modo questa tensione si ripartisce sui tre condensatori e quindi i valori di V1, V2 e V3, ci viene inoltre chiesto di calcolare la quantità di carica accumulata sul condensatore C2. Osserviamo che questi tre condensatori sono in serie e quindi quando i condensatori sono collegati in serie la quantità di carica in essi accumulata è uguale e la chiamiamo Q. Quindi la quantità di carica sulle armature del primo condensatore è uguale a quella del secondo ed è uguale a quella del terzo. Ricordiamo dalla teoria che la quantità di carica Q accumulata su un condensatore è pari alla sua capacità per la tensione applicata al condensatore stesso. Pertanto questa quantità di carica Q si può ottenere in tre modi differenti come prodotto di C1 per V1, C2 per V2 e C3 per V3. Osserviamo inoltre che la tensione VAB applicata a tre condensatori è pari a V1 più V2 più V3. Quindi scriviamo questa quarta equazione in modo da ottenere quattro equazioni e quattro incognite Q, V1, V2 e V3. Abbiamo dunque un sistema che può essere risolto ad esempio osservando che V1 è uguale a Q su C1, V2 è uguale a Q su C2 e V3 è uguale a Q su C3. Sommando ora V1, V2 e V3 così espressi otteniamo VAB. Abbiamo un'unica equazione con incognita Q, isoliamo quindi Q che moltiplica 1 su C1 più 1 su C2 più 1 su C3 ed infine Q è pari a VAB diviso questo termine. Sostituendo i valori, a VAB mettiamo 230V mentre i valori di capacità C1, C2 e C3 che sono qui espressi vanno convertiti in Farad, quindi qui abbiamo 30 per 10 alla meno 12 Farad, 2 per 10 alla meno 9 Farad e 0,8 per 10 alla meno 9 Farad. otteniamo dunque, avendo effettuato queste conversioni, una quantità di carica pari approssimativamente a 6,556 per 10 alla meno 9 Coulomb. Ora che è nota Q possiamo calcolarci V1, V2 e V3 come rapporto della quantità di carica diviso la capacità, quindi V1 è uguale a Q su C1 e questi due valori sono noti, Q lo abbiamo appena determinato, C1 è pari a 30 per 10 alla meno 12 e otteniamo quindi 218,533 Volt. Calcoli analoghi possono essere svolti per V2 e V3 sostituendo quindi il valore di Q che è lo stesso e il valore di C2 e C3 qui riportati. Otteniamo quindi per V2 3,278 Volt e per V3 8,195 Volt. Si tratta di valori approssimati che sommati tra di loro generano la tensione di 230 Volt applicata ai nodi A e B.